Prima di iniziare il video voglio proporvi come la settimana scorsa un'altra sfida Se raggiungiamo i 50.000 like entro le 17 uscirà la seconda parte di questo Episodo perché abbiamo registrato tantissimo e sono venuti fuori due video Quindi lascia like se vuoi anche la seconda parte e buona visione Cappellino? Sì bravo, grande, oh vedi l'ho portato da casa L'ho portato da casa, posta, no è perfetto No no l'ho portato da casa questo, mica ce l'avevi tu No veramente, ah già è vero che ce l'ho anche quello sai Mi hai usato perché Scambio cappello, scambio Tu sei Favij oggi, io sono Surry Alpau Guarda che bei capelli che hai Surry Ciao a tutti raggiunti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita Sono qui insieme a Favijenzo Che ha un cappello incredibilmente sexy Donne, donne È arrivato la rutina Creeper, pss Io esplodo che è un piacere Eccolo, è arrivato Comunque, showa mi something good in your world All right, all right, all right Allora praticamente ho deciso di ospitare Favijenzo nella mia serie principale del canale che è Minecraft Ita Visto che lui mi ha ospitato nella sua di Happy Wheels In Minecraft Ita E allora, e allora ci sta Eccoci qua, siamo nel nostro mondo, come potete vedere Questa è casa mia Questa è casa tua, tua, tua Sì, questa è casa mia, primo piano che è molto shallow, enti c'è il tappetino Con il logo della Maserati, vedi il tridente Ah, ok Ok C'è una mini farm di grano, ma giusto per non avere mai problemi di cibo Qua c'è una libreria, ma Beh, non hai ostentato troppissimo, nel senso che è più grossa casa tua di adesso Comunque no, ah no, c'è una porta sul retro, ah vedi C'è una porta sul retro, perché qui c'è l'easter egg Cos'è questa cosa? Questa è una scala, quindi questo è Sottoscala Harry Potter C'è la bacchetta di oggi, e c'è il lettino, c'è il lettino sotto Non è vero, bellissimo, vabbè, oh regà, geniale, basta, geniale, questo è geniale Modestamente, modestamente Bellissimo Vabbè, ci sono quadri vari di qua E usciamo, c'è il monumento a Minecraft, che è un bellissimo piccone Fantastico Che è bello Che hai fatto sempre Girati, fai vedere Bello Piccone Mi piace Bello E in realtà la cosa più bella del mondo, te la faccio vedere immediatamente E, hai presente chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America? Non è la Clinton, mi sa No, non è la Clinton Non è la Clinton Come si chiamava? Eh, qualora è il Mac Com'è il Mac? Guarda McDonald Trump Donald Trump Ora, cosa potrei mai aver fatto? Potrei aver fatto un trampolino No? Ragazzi, vi prego il Dio Nooo Ma perché? Guarda Ma perché è verde poi? Eh, perché ci sono gli slime block per rimbalzare È un trampolino Non ha senso Eh, perché sono, tipo Cioè, ma tu, ma poi ci somiglia davvero Eh sì, ci ho messo i secoli per cercare una pixel art che ci somigliasse Non ho parole Di un casino voi Hai fatto il trampolino Ho fatto il trampolino Infatti, tipo No, vabbè, dai Questo è perché Minecraft Ita è la serie forse migliore di YouTube in Italia Ecco Sono per questo Cioè, Dio mio Poi, vabbè, ci sono altre cose un po' così Ma non mi viene in mente nulla di divertente Il resto è tutta roba tecnica Qui ci sono i mini golem Guarda che mi proteggono il magazzino Oddio, è vero Un mini golem con la spada così Sì, è tichissimo Porto, c'è la cosa della pesca automatica Ma sono tutte cose in più Pesca automatica Sì E là c'è Wilson e Bert Beh, Wilson e Esatto In realtà devo fare anche le altre mascotte Però non so Non c'hai voglia No, non so come farle Perché sono difficili Senti, facciamo una cosa Casa mia dov'è in tutto questo? Eh, non c'è casa mia Ma perché io non so come è fatta casa tua Come faccio a fare casa tua se non so come è fatta? Come fai a non sapere? Dovresti conoscere i miei gusti Allora, innanzitutto l'hai messo Harry Potter Non lo posso mettere io Purtroppo Facciamo tipo il muro di Diagon Alley Che si apre E poi metti dentro Ma tu l'hai visto Harry Potter? Sì che l'ho visto Harry Potter Che domande? Bene, allora posso Trovami un bello spiazzo E inizio a fare la roba mia Sì Lui vuole venire a casa mia È un tuo amico Vedi che c'ha Lui si chiama Hermenegildo Ecco lui è la mia mascotte Sì Me la fai poi Me la fai vicino a casa La mascotte di FabiJ è un maiale Attenta Un maiale di Minecraft Ti portano i maiali Quella al fanno oink oink Guarda ce l'hai? Ce l'hai? No vabbè Questa è la mascotte di FabiJ Ma perché? Beh fa proprio oink Guarda che lo attira Guarda che adesso si avvicina Guarda che si avvicina Ah vuole accoppiarsi Maiale Eh ti porci eh che so Allora io ti direi che ti lascio completamente Mi lasci completamente la mano Sì Con la V vai avanti S vai dietro Ok 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 Poi con questo dai le spadate Va bene va bene Ok In realtà FabiJ mi ha espresso la sua preferenza per il quarzo E quindi io sono andato prima a prenderne un po' Perfetto Però il quarzo è difficile da prendere Quindi non ne ho tantissimo Quanto ne hai? Usalo con parsimonia No è quella Con lei non con la I Sono poco più di 4 stack Però sono pochi Cioè non ci fai molta roba Ci faccio la porta Esatto Perché io ho mania di grandezza Io dove la faccio la casa qua? Nel lago No ti chiedo dove la vuoi fare? Guarda un posto che ti piace Ah io pensavo volessi Mi avessi messo qua a posto Perché volevi Oh sì Cioè poi se scegli un posto di merda Tranquillo Farò tipo l'episodio Sposto la casa di FabiJ Sposto la casa Che poi mi sfratti tutto Esatto E invece vai a vivere tu Allora aspetta Fammi capire un attimo Vuoi fare una palafitta in mezzo al lago? Vuoi fare una palafitta in mezzo al lago? Allora bisogna prendere un po' di legno Lupontin Allora Sì effettivamente Allora c'è il legno in partenza Aspetta fammi provare questa cosa Che io da un po' Che non gioca a Minecraft Ah le hanno migliorate tantissimo le barche Sono bellissime ora Oddio adesso puoi pagagliare Sì E non si rompere neanche Non ci credo mai Non si rompere neanche Puoi andare a tutta forza contro i blocchi Non succede nulla È un orgasmo È bellissimo Cioè non era così mai prima È bellissimo Andavi anche storto No prima Se trovavi un pollo che stava nuotando E ti ci scontravi Disistruggervi Prendivi danno praticamente Morivi Eh quindi poi E poi come la riprendi in inventario La spacchi La spacca con il piccone Cioè guarda io ho fatto anche il porto No vabbè che storia Perché hanno cambiato i tipi di barche Ci sono per ogni tipo di legno Allora facciamo che a casa mia non ci arrivi Normalmente ma ci arrivi solo con la barca Allora non faccio nessun fottuto ponte Tranne ovviamente la spiazzola che devo fare Perché dovevano partire a qualche punto Aspetta sai cosa ti dico Cosa mi dici Torno un attimo al magazzino Perché bisogna anche un po' di cobblestone Perché tipo la base Mi sa come fare la di cobblestone Tu hai che speghi il quarzo È vero hai ragione Volevo buttare legno Però effettivamente il legno Non ha proprio senso Al fungo c'era o l'hai piazzato tu? L'ho piazzato io Ma possono crescere labbraio di funghi? Sì no perché Quello è il monumento ad Amsterdam Sto scherzando Ah ok Ti prendo sul serio Non riuscire a cosa Allora la cobblestone No no qua c'è la redstone In fondo a destra Scusami solo per curiosità No queste sono vuote Qua ci sono le rotaglie Di là c'è la redstone In fondo a destra L'ultima a destra Come nella rotatoia Ah c'è scritto proprio Come fai a fare i quadri così io? C'è hit and frame Eh? Da quant'è che non giochi? Da 4 anni Allora Giochi due stack Vai Vai Abundas Poi vabbè ti lascio tutto No hai sbagliato Sbagliato strada Qua Vai Vai Di qua di qua va bene Ok aspetta mi sto perdendo Aiuto C'ho le indicazioni stradali Ah Va bene Lascio perdere Ah no zio Ecco cos'è che tu non l'hai visto Oh cos'è sta roba? Un fiore No no Aspetta Questo È per lo scudo? C'è lo scudo? Ma da quant'è che non giochi? Chiedo scudo non lo sapevo Eccolo Guarda ti faccio vedere una cosa Questo di sicuro non l'hai visto Hanno messo gli zaini Gli zaini? C'è prima te c'è una cesta Che tu puoi piazzare C'è la roba dentro Non è vero mai Giro Vabbè Vabbè E poi lo riapie c'è la roba No non ci credo bellissimo Ma quante ne hai di ste perle Per far sta roba? Eh c'ho la fam di enderman Hai la farm di qualsiasi Anche di enderman Come fai a farmare gli enderman? Nel land Nel land spungo solo enderman Non ho parole Io per trovare sta roba E per andare a trovare Quella specie di Come si chiama la rovina Quella roba lì Per ammazzare tutti gli enderman Ci mettevo una vita e mezza Tonight everybody E ci sono delle leve Ah perché Quello è il computer Eh Puoi giocare a minecraft sul computer Sì gioco a minecraft dentro Questa è tipo la sedia Più o meno Beh più o meno Più o meno Questo è il mouse Cos'è? È un joypad È un joypad Ah ok È un joystick anzi Fa solo così Questo è per accendere il computer Però è rotto Devo chiamare un tecnico Ah ok È rotto Bene Vabbè Sai cosa che ho fatto di recente La doppia farm di pollo Pollo automatico Veramente Che McDonald's può accompagnare solo 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 Oddio Ti trovi il pollo cotto dentro Scusa Ah perché tu metti Perché ci sono le galline Che stanno lì Fanno le uova Fanno altre galline Che fanno uova No Le uova entrono nel dispenser C'è qua un circuito Che le spara E quindi nascono i pulcini Però C'è lo slab Quindi quando crescono C'è la lava E si autocuociono Non ho parole Quando crescono C'è la lava E poi C'è la lava Ma come fai Ma non ho parole C'è quel tutorial Ah ecco No vabbè Ma anche quelli che hanno fatto i tutorial Come gli è venuti in me Vabbè Non c'hanno un cazzo da fare Dei sadici Non c'hanno un cazzo da fare Non ho parole Ok Prego Allora ci stiamo Primo blocco ragazzi Un applauso Basta Io sono a posto La casa di FabJ Castaway Cos'è Mi adatto alle circostanze Anche la pecora Anche la pecora Allora senti un attimo Come facciamo a far sta roba Facciamo tipo Io farei uno Lo so Si però di qua Perché se no Sto vicino alla riva Comunque ci metterò tipo Una vita e mezza A fare questa cosa Ma tanto quasi Tocco Quanto lo vuoi fare grande Dai giacchio Allora facciamo sui due piani Esatto bravo Facciamo sta roba Sono la base comunque Si si è la base E' un problema che ho sempre avuto Non ci piglio quei blocchi Non riesci a centrare Si però lì dobbiamo Poi vabbè Vuoi arrivare alla sabbia? La di sabbio La di spiaggio Di sabbiamento? No perché è troppo vicino Cioè se no alla fine Ci fanno un saltino Ti rubano in casa E bravo Vedi che capisci Fa tuttano pure dei ladri Quei ladri Eh vabbè si è più giusto così Vai Perché così voglio fare un balcone Della parte opposta Ah Hai capito Si tratta bene il FabJ La villa con vista La jacuzzi Ci sta Ci sta Bello Con l'idromassaggio E' certo Con le bollicine Sì Sia le bollicine Sia lo champagne Non può essere una poverata Lo champagne ce l'abbiamo Ci pensi tu Vai aspetta Tu continua a prendere lo champagne Vai vai Io faccio Ma perché Lui ha lo champagne Lui non lo crafta lo champagne Lui ce l'ha Lui ha le cose Nooo Ho sbagliato Hai lo champagne Hai il moe Hai il moe Devo più di spicchi Perché hai un moe Ma è pieno? Certo che è pieno zio Che casa sarebbe Senza uno champagne in frigo Ma scusami Io non ho di queste usanze In casa mia Scusa Non ti capita mai Che c'è qualcosa da festeggiare E non c'è lo champagne pronto? Ho del tè alla pesca Tè alla pesca Tè alla pesca Ma do Hai un moe Ma che figo Vabbè inauguriamo casa ragazzi Vai dopo si sboccia Per la casa di Fabi J Sboccia tutto everybody La nuova casa mia Perfetto Anzi Visto che siamo in due Sai cosa? Sbocciamo questo qui Hai il minimo e Ma perché? Dove le prese? Siamo in due Un bicchierino Ci sta Vabbè ci sta Santero Ma perché sono tutto storto Perché sono storto Non riesco a fare un blocco Vedi perché non gioco a minecraft Il problema è che Non c'è più con i blocchi Non c'entro i buchi Il tempo in cui Fabi J Ha costruito questa base A me è cresciuta la barba Non sto spizzando Infatti hanno cambiato anche Il presidente degli stati uniti Non è più Trump Ora non è più Trump Ora è la Clinton Cambiamo Ci ho messo una vita Solo a fare il pavimento Fai te Allora facciamo così È un tempo grandina Sai che ti dico Facciamo una casa piccola Tipo il balcone grande Hai preso tantissima cobblestone E finita solo per fare la base Solo per fare la base Solo per fare la base Ma quello serviva E adesso si fa tutto di quarzo Tu ci hai messo a craftare il quarzo? Eh Eh Devi dirlo dai Dillo 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 Eh non so il tempo preso Dai Dai dillo Lo so che lo vuoi dire Ho massacrato un nether Non so le tempistiche Un buon quarzo d'ora Continuo la casa Che è meglio Ma cos'è È già qualcosa Dai Un quarzo d'ora Per farla a casa Ragazzi Però va bene già così Facciamo così Qua sotto Aspetta ti faccio vedere Cosa voglio fare Comunque sta pecora Continuerà fino alla fine Ma sai perché? Perché vi piace il bianco Anche a lei Ah vedi fa pandano Beh almeno abbiamo già letto Sono sadico No io dormo sulla pecora Mica l'ammazzo È giusto Quello che sto facendo Hai una tattica più veloce Sì sì no ci sta Lascia solo un buco per la porta Nel senso poi Sì no vabbè quella davanti Ma anche per entrare nel balcone Sì no quello sì certo Però Praticamente stai facendo uno yacht Non stai facendo una casa Uno yacht Lo yacht di Favij Sei in mezzo all'acqua Ok che modo lo fai Cioè Cioè La parte aperta È tipo dove parcheggi la barca Nella barca più grande Bellissimo Che storia No basta Oh regà Fermi No 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 Ma che casa Ma cos'è sta poverata di casa Facciamo un bello yacht Ok No 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 Grazie a tutti.